Noi abbiamo il governo che istituisce gli stati generali a Villa Doria Panfili perché ha deciso che fa lo show La Villa dei Famosi. Alla Villa dei Famosi una serie di auto blu entrano in una cornice molto elegante nella quale discutono tra loro a porte chiuse, senza streaming, senza giornalisti e ascoltano un po' di persone per poi uscire nel gradevole giardino di Villa Panfili a dire qualche banalità. E poi è l'opposizione che è irresponsabile perché non si presta a queste pagliacciate. No, non ci prestiamo a queste pagliacciate. Noi reputiamo che gli stati generali si fanno in Parlamento, al Senato e alla Camera con le regole di ingaggio che sono stabilite dalla nostra Costituzione, dai nostri regolamenti e non con le regole di ingaggio stabilite da Conte e Casalino.